Ignazio Corrao che in Europa c'è oggi, ci lavora e non da oggi, appunto da un po'. L'Europa finalmente si è svegliata perché noi in questi mesi abbiamo avuto l'impressione che ci fossero tante dichiarazioni di intenti, tante riunioni vertici nei quali veniva messo nero su bianco un programma e poi siamo da capapiedi raccontando per chi come me fa questo lavoro tragedie indicibili che continuano in mare e a terra. Beh, intanto buon pomeriggio, poi mi sembra chiaro come dicevate appunto in apertura che chi prende la via del mare, chi scappa dalle guerre non vede nessun tipo di ostacolo non vede nessun tipo di confine, di frontiera, cioè se si blocca da una parte si entra dall'altra lo dimostrano queste immagini che stiamo ricevendo dall'Ungheria, dalla tratta dei Balcani in questi giorni. Io credo che noi siamo tutti colpevolmente in ritardo, le istituzioni europee hanno delle responsabilità enormi su queste tragedie umanitarie, mi sembra chiaro che non si è fatto nulla finora, si è fatto soltanto un po' di chiacchiera negli ultimi tempi da parte della Commissione, da parte del Parlamento europeo, ma ancora ci scontriamo con quella che è la posizione degli Stati che conservano gelosamente, perché lo dobbiamo ricordare, che gli Stati conservano gelosamente la loro sovranità quando si tratta appunto di guardare ad un problema di dimensioni globali che ha, come giustamente diceva Mirabelli all'inizio, una dimensione epocale, lo si guarda con l'approccio di chi non è interessato a cosa sta succedendo nel mondo. E chiaramente faccio riferimento a chi fa da capofila in questo atteggiamento sia il governo britannico, che peraltro ha enormi responsabilità, quello dell'8 e quello del 14, capire davvero se c'è comunione e intenti per affrontare seriamente davvero questa volta il problema.